Si apre domani in prefettura a Campobasso l'ultimo capitolo, forse, per gli otto autisti licenziati dalla SEAC. O si trova la soluzione o da lunedì a casa. Vicenda SEAC a Campobasso, si avvicina la data di lunedì quando otto autisti resteranno in pratica a casa licenziati. Nicolino Libertone, domani c'è questa ultima speranza con il tavolo convocato dal prefetto a Campobasso. Sì, io colgo l'occasione per ringraziare il suo eccellenza il prefetto per la sensibilità avuta e per aver convocato tutte le parti al tavolo. Noi ci auspichiamo che si trova una soluzione. Noi siamo aperti a tutto, anche eventualmente a contratti di solidarietà, per far rimanere tutti nell'ambito lavorativo e non essere licenziati. E' una situazione che però domani deve trovare una parola fine, altrimenti gli otto licenziamenti da lunedì partono. Sì, dobbiamo mettere in gambo tutte le energie, tutte le proposte affinché si evitano i licenziamenti. Quindi domani l'azienda per me dovrà ritirare i licenziamenti, mettendo in gambo tutte le soluzioni possibili per evitare che le famiglie restino senza un reddito. Ecco, ma resta però poi la spada di Damocle dal primo di gennaio con l'ulteriore taglio per il trasporto urbano. Ma questa soluzione, eventuale soluzione che ci auguriamo che troviamo domani, ci deve accompagnare fino al bando di cara, all'assegnazione del bando di cara.